dai lo saltiamo ancora qui lo saltiamo proviamoci è solo è solo è solo se la qua abbiamo recuperato la partita che la prendo e andiamo a fare sto gol stai sul posto tu ma io ci provo da qui e ce l'abbiamo fatta l'abbiamo chiusa ripartenza ripartenza è meglio di no la facciamo noi la ripartenza e questi si muovono attenzione forse ce la posso fare forse ce la posso fare ce la posso fare 3 a 0 ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ma cos'è che gol che subito abbiamo fatto le abbiamo forse fuori gioco ed è gol non è fuori gioco cross nel mezzo non riesce a liberare su questa grossa c'è il tiro ce l'ho fatta ce l'ho fatta dai che ci provo dai che ci provo adesso siediti come il cagnolino siediti come un cagnolino c'è il tiro è il raddoppio e 3 a 0 un gol con un attacco incredibile forse ce la facciamo fare un tiro un po d'effetto ce l'abbiamo fatta un controllo incredibile ok bene benissimo bene benissimo tira ha sfondato la porta guarda passate nella palazzo uno 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 gol azione bella fatti vedere bravissimo avanziamo dai dai guardami qua guardami qua dai tira e gol andiamo a farlo andiamo a farlo andiamo a farlo andiamo a farlo fatti vedere tira e vaffanculo ci stava però questa volta sono solo ce la posso fare ce la posso fare gol dai ok perfetto guarda che sono solo guardami qua perfetta azione perfetta ci proviamo 3 a 0 che ho visto vai così tira perfetto attenzione non so come girarmi raga ci provo lo stesso e rete guardami qua possiamo farne un altro 07 a 0 trovo liberarmi ci riesco posso provarci gol qui ci provo un col bellissimo di proprio di grasso terra leggero leggero un passaggio non mi farebbe male un passaggio non mi farebbe male si possa provare a giro e gol la tengo incredibilmente attenzione perché l'azione non è finita anzi è tutta di nuovo cominciata un pallonetto bellissimo un pallonetto bellissimo ragazzi ho fatto una cosa incredibilmente per me si l'ha fatto 4 a 0 ragazzi ce ne siamo andate crossamela ci posso provare al bolo 5 a 0 proviamo ad attaccare noi eccola qua ci provo pure questo passaggio bellissimo può tirare e rete io la passa lui che tira e rete marcato stretto palo rete il gol bellissimo lo salchiamo con un modo incredibile ci proviamo ci sentiamo proviamo il tiro 10 a 0 ragazzi 10 a 0 doppia una palla così e dentro e rete che lo salchiamo possiamo tirare rete 2 a 0 un gol anche noi facciamo il terzo 3 a 0 con un'azione incredibile così perfetto recupero il gol possibile cercare l'avanzato da solo in queste condizioni ci prova tira 5 ovviamente a fare le nostre giocate incredibili e a fare il sesto gol a fare il sesto gol tripletta anche per me non ci sono arrivato guardami così perfetto 7 a 1 ho fatto anche il quarto prendi la palla prendi la palla aspettavo bastavela a me così che facciamo l'ottavo 8 a 1 passatevi la palla spunto la forza 7 a 1 possiamo provare sono da solo ci posso provare rete sono tornato a fare ci riesco ci posso anche provare a tira che gol sul primo palo attenzione ci provano alle distanze ma che gol ha fatto allora io voglio capire il perché ma sono che che non ci vedono non lo so ci posso provare io mi sto liberando sono in mezzo pass bellissimo passaggio ci posso provare e vedrete un bellissimo gol un bellissimo gol ragazzi quello è in rigore ci posso provare sono qua da solo posso provarci a giro ed è un gol bellissimo questo questo è un gol bellissimo 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 no da noi libero vediamo se lo salto vediamo si lo salto lo salto ci posso provare rette manchiamo sto calcio di rigore all'angolino ce l'abbiamo ci si tratti loro ci manca solo uno da saltare lo salto ci posso provare rette speriamo subito di farne un altro e non di fare sempre la stessa fine che abbiamo sempre fatto ci provo 2 e 0 subito immediatamente ovviamente comincia a far sentire la stanchezza però li salto tutti ci provo 3 a 0 posso provarci 4 e 0 saltiamo attenzione li saltiamo ci accendiamo possiamo tirare rette 5 2 uomo libero uomo libero al centro cross in mezzo di testa rette a trovare il tiro rette subito al quarto minuto perfetto perfetto ci posso provare davvero questa volta e forse qualcosa da riesco a fare però da solo non riesco a fare niente 1 e 0 impossibile posso solo fare il tiro 3 a 1 non rifiuto ci provo deviata ancora ci prova anche lui 4 a 1 ma come abbiamo 6 prova di nuovo 1 a 6 ci provo rette tutta da sola forse ci riesco perché salto tutti di velocità c'è solo il titolo 2 e finita l'azione finita l'azione ci provo che gol uuuh attenzione lo salto ci provo sotto all'ancolino 4 a 1 vaffanculo ci sono riuscito mi sono preso il rigore perché sono solo ci posso provare rette 2 così passami la palla ci posso provare rette rette queste gol queste gol costruire un'altra azione attenzione ci posso provare 2 a 0 guardami che sono solo ci provo 4 a 0 4 a 0 provare a gestire le forze e lasciare che sia 2 a 0 vai che questa è buona vai che questa è buona 3 a 0 3 a 0 4 a 0 4 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 6 a 0 6 a 0 6 a 0